E' stata una terra dimenticata questa della falce, no no, dico di più, non è stata dimenticata e invece qualcuno se l'è ricordata per cercare di fare qualcosa di straordinariamente pazzesco cioè fare e mettere qua tutte le cose più inquinanti, fare un inceneritore qui nel centro della città e nella zona dove è nata la città, ma come possiamo giudicare quegli atti politici? E non è dimenticata, se la sono ricordata per devastarla Tutta la zona falcata appartiene al piano delle bonifiche regionale, ce l'abbiamo dentro il che vuol dire che i 30 milioni che avevano promesso alla regione sono spendibili facendo i progetti esecutivi Cosa significa? Significa che ci dobbiamo imboccare le maniche e fare i progetti esecutivi contattare l'assessore all'energia, sbrigare tutte quelle burocrazie che sono purtroppo faticose e estenuanti e le conosciamo bene e per poter fare un passo fondamentale sul piano economico cioè liberare dall'inquinamento i suoli e naturalmente demolire tutto ciò che ancora resta Quella è la parte fondamentale perché sennò non si può creare sviluppo cioè lo sviluppo qui oggi è impedito non soltanto dalla volontà degli uomini ciechi ma anche da un peso economico enorme che è dovuto alla necessità di bonificare prima di qualunque altra cosa quindi eliminare il problema bonifica significa ridare una possibilità concreta che qualcuno, pubblico o privato che sia, reinvesta in questi luoghi